Il treno regionale, 12-0-1-1, di Trenitalia, proveniente da Novi Ligure, è diretto a Genova Brignole, delle ore 4.58, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Genova-San Biagio. Il treno regionale, 12-0-1-6, di Trenitalia, proveniente da Genova Brignole, è diretto a Busalla, delle ore 6.58, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 12-0-1-9, di Trenitalia, proveniente da Arquata Scrivia, è diretto a Genova Brignole, delle ore 7.11, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Genova-San Biagio. Il treno regionale, 12-0-2-1, di Trenitalia, proveniente da Busalla, è diretto a Genova Brignole, delle ore 7.26, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12-0-1-8, di Trenitalia, proveniente da Genova Brignole, è diretto a Arquata Scrivia, delle ore 7.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12-0-2-2, di Trenitalia, proveniente da Arquata Scrivia, è diretto a Genova Brignole, delle ore 7.58, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Genova San Biagio. Il treno regionale, 12-0-2-2, di Trenitalia, proveniente da Genova Brignole, è diretto a Arquata Scrivia, delle ore 8.31, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12.0.2.0, di Trenitalia, proveniente da Genova Brignole, è diretto a Busalla, delle ore 7.59, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 12.0.2.5, di Trenitalia, proveniente da Busalla, è diretto a Genova Brignole, delle ore 8.25, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12.0.5.5, di Trenitalia, proveniente da Busalla, è diretto a Genova Piazza Principe, delle ore 15.53, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 12.0.7.0, di Trenitalia, proveniente da Genova Brignole, è diretto a Nobiliure, delle ore 20.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Pietrabissara, rigoroso.